Andrea, qui all'Arezzo Academy come un punto di ripartenza e non d'arrivo? Sì, giusto, giusto. Hai detto bene perché deve essere un punto di rilancio, diciamo, sia dal punto di vista personale ma poi anche dal punto di vista della società che vuole fare bene e sta cercando di impostare tutto in maniera più seria possibile e professionale. La squadra comunque è riduce, da un bel campionato, quindi una posizione di classifica tutta da migliorare. Sì, sì, la squadra l'anno scorso ha fatto un gran campionato perché considerando le compagini che vi erano importanti come Fonte Belverde e Montesanzavino, il piazzamento dell'anno scorso è stato molto positivo. Cerchiamo di, proveremo di migliorare, però non è facile. Siamo agli inizi della preparazione ma comunque i tuoi compagni, hai avuto molto di conoscere, di cambiare? Sì, sì, comunque molti li conosco e li conoscevo già. Poi ci sono molti giovani interessanti che bisognerà cercare di conoscere sia dal punto di vista calcistico ma soprattutto anche personale perché fa sempre piacere. E le pensi era comunque un po' che andare sia al campionato, che era tornato a 16 squadre, ma quella che è la consistenza del girone? Sì, no, allora il campionato per fortuna è tornato a 16 squadre perché 13 era un po' limitato, non era un bello spettacolo, diciamo. Dal punto di vista dei compagini è un campionato molto importante, tosto, perché ci sono diverse squadre attrezzate. Sei un giocatore importante comunque per il movimento di gioco e per gli schemi, sia in mezzo al campo che lì davanti. Sì, cercherò di dare il mio contributo soprattutto dal punto di vista anche dell'esperienza perché la squadra è anche molto giovane quindi va cercato di aiutare il più possibile questi ragazzi a crescere. Siamo sicuri che farai bene. Grazie, grazie mille.